20 secondi, inizia prima impresa Iacopo, fai lo porti sotto, sali bene con Iacopo, sono arrivato in basso Iacopo, fai la stessa, senza la pausa in me, senza la pausa in me Iacopo, fai la stessa, senza la pausa in me, senza la pausa in me Iacopo, fai la stessa, senza la pausa in me Sììììììì! 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 Sìììììì! Sìììììì! Inizio, seconda ripresa! 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 Inizio, seconda! Inizio, seconda ripresa! 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 Vieni, 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 vieni E allora? Dai un voto! Dai tutto! Gordi! 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 Dai, vieni, vieni. Dai, vieni, vieni, vieni Dai, vieni... Sì, salete con il destino! Sì, salete con il destino! Non si è avuto, non si è avuto. Non si è avuto! Sì, quello devi fare. Vincere in grotto! Iacopo Cali! Vincere in grotto!